yuk e tutti dullanti ben ritrovati sul canale oggi ragazzi siamo con il nuovo video acquisti a questo giro dedicato ovviamente a nazionale che si è tenuto tipo due settimane fa si mi sono fatto un po prendere la mano con gli acquisti e con gli scambi però ehi come fai a non comprare o scambiare roba di e il mio portafoglio mi sa che l'ha capito molto bene soprattutto dopo che ha tirato fuori soldi per i box di led ma ehi questa è un'altra storia e trovate la live sul canale ovviamente però ragazzi prima iniziare vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da fantasia store il miglior negozio ragazzi per l'acquisto di tutti i vostri prodotti video di o magic pokemon one piece l'orcana vines svarsha cioè hanno praticamente di tutto tutto quello che potete sognare ce l'ha quindi ovviamente se volete supportarmi e avere un piccolo sconto trovate il mio referral link e il codice sconto sempre qua sotto stessa cosa ragazzi per jack store il miglior negozio ragazzi per l'acquisto di prodotto coreano e giapponese poi hanno roba badai hanno slip particolari hanno un po di roba ragazzi quindi se volete effettivamente supportarmi e sbustare roba esotica vi ricordo che trovate il mio referral link e il codice sconto sempre qua sotto sotto ovviamente quello di fantasia in più se volete liberarvi di carte di yuki magic pokemon e one piece trovate il link del mio instagram sempre qua sotto contattatemi le foto e se c'è qualcosa interessante se ne può parlare detto questo andiamoci a vedere quello che mi son preso ragazzi la situazione un po drammatica ho provato a spostare tutte le pile ma è impossibile perché oltre queste ce ne sono altre due che andremo a vedere dopo vi dico già da subito che c'è roba vera e palta quindi troverete comuni da lede che ovviamente ho tirato su perché la gente le lascia sopra il tavolo sia roba più interessante come qualche quarter mettiamola così ma vabbè allora spostiamo la roba e partiamo dal primo mucchietto erence ovviamente sempre qui a farci compagnia perché voleva sapere assolutamente cosa avevo preso e se c'era qualcosa che mi poteva tirare su perché ovviamente ha anche lui una dipendenza da figurine allora erence mi senti ti sento benissimo e volevo dire che stai mentendo io ero lì con te al nazionale ero in quella maledetto tre in italia di merda di questo ne parleremo più avanti perché dovevamo essere in quattro siamo rimasti in due ma vabbè dettagli siamo rimasti in due tra la palta mix roba interessante abbiamo questo lavate in totalmente a caso poi numero 3 per e ci cala anche questo totalmente a caso ma perché no poi ho preso un po di roba da op c'era questa dispersione ruic carina poi questo ragazzi mi spiegate perché ho tirato su sta roba poi ora renecomale da op poi uno spolverino comune così disturbatore di aggiornamenti teletrasporto un inga curivo perché vabbè alla fine sta un eurino prendiamolo poi un altro disturbatore il gatto da soccorso che ovviamente all'interno della rarity ma ehi ma questo è da fetti in prima edizione pur palesemente mangiato dai cari finito in lavatoviglie però è da fette nel senso che lo prendi comunque poi vabbè abbiamo allora poi abbiamo questa carta labrinto due per una lady toon arpia da toc questo strappa possesso che ovviamente ha riprintato secret poi barriera di ghiacci in due per mataza da yoke o perché c'era sto tipo che aveva un blocco di carte vintage messo abbastanza bene quindi ho detto ma 30 euro interessante vabbè vabbè buono è la roba yoke old quella vera è bella da trovare anche questo le wunka giroid a caso in tipo due per madre grizzly queste sono carine oh play set due in seconda uno in prima carte da 4 euro palesemente poi vabbè ciprea un pugile indomito rabbia salamagna circolo poi abbiamo ho emissione vulcanica cavolo abbiamo i campi flegrei attualmente poi la carpa nascente a ragazzi ho preso tutta una base punk per cui tu non ce l'ho a caso sì 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 ma sì ho preso tutto punk questo è un mix lo vedrete in giro ci saranno le volpine e tutto il resto poi vabbè alza rango magico o small world da rarity ovviamente perché quelli da bode sono uguali a quelli di rarity poi ho questo in americano poi vabbè due ciclone a caso drago rosa carmino ti spara cosa hai cercato che fosse veramente americano e che ti sparasse prima di dire che americano a sì sì ovviamente appena messa nell'album c'è ho sentito una guerra tra bande dentro fantastico allora perfetto americano voccioli a caso questa necro valle distrutta mondo zombie villaggio segreto ling kuribo perché perché non tirare su tutti ling kuribo che si trovano in circolazione sperando che conami decida di darcelo questa double lancia 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 questo a caso vabbè magus spruzzo totalmente a caso roba crusadia un baun c'è questi le condizioni però che fai li lasci lì degli ophion nm no ophion è la carta meme no ma ophion palesemente avrà cioè branco malvagio avrà dei supporti a breve quindi per forza per forza salirà parallele xd la roba è già salita vabbè no sto scherzando non esce nessun supporto vabbè ma la roba è salita comunque ok poi ecco questa qui da dama cyber dragon ova non ho tutto tutto rescue ace vabbè però tipo tre araldini della luce d'arco poi quattro arte a caso cavaliere dell'incubo unicorno mamma è che un altro link kuribo questo in tedesco vabbè anche questo non ce l'ho in italiano poi waka usci lui che tempo sta 10 euro quindi che fai non lo prendi adesso che in hype lancea occhi di serpente di abel star che poi avevo preso tutto un come si chiama uno snake eyes l'ho già dato via tutto il main quindi vabbè non lo vedrete però effettivamente c'era pure quello grazie skill based sì ovviamente poi abbiamo il difenditore burattino ne ho sarmato a caso questa tigre reale wangu da db2 messa abbastanza bene ma la gran domanda è cappello quanto hai speso no nessuno lo vuole sapere poi abbiamo unicorn ciclone punk vabbè dei golem di lava servitore poi un po di roba presa scambio nel senso un po di roba degli stand solite cose vabbè terrore incarnato o questa è la palta comune che la gente lascia sopra i tavoli e un paio di imperma così perché non le avevo quelle gold sono terribili però fanno il loro giusto per averne un po si si ecco adesso abbiamo la terza poi abbiamo le bell altri lancea queste tre ricariche solari da amp secondo me sono carine quelle super in edizione limitata belle poi abbiamo questo che secondo me ha preso dell'acqua perché no sembrava appiccicato mamma mia la ultimate che schifo poi abbiamo punizione in vari formati distruttore bubble ma carina quest'altra rara a caso un droll droll non ho preso in botto ragazzi comunque anche se c'è la rari è una carta che sta sempre a un euro in qualsiasi salsa da ristampi poi abbiamo ariel roba shadow altra roba orgoglio d'oro ci dovrebbe essere anche tutta la base perché ho preso punk gold pride allora sì abbiamo questo cherubini american ci sta poi o dove sta ecco acceleratore rottame vampiro poi vabbè cose a caso un tifone finto dual terminal perché tanto abbiamo visto che le due abbiamo visto che le due terminal sono spaccate tutte di prezzo poi cose a caso come giusto che sia perché non si trova allora andiamo a caso la cosa più bella del mondo però adesso ti piace quello che ho preso non è male mi aspettavo di meglio da una persona come te però vedo che ci sono delle rare abbastanza rare a trovare delle comuni carine che hai raccattato ai tavoli perché palesemente le hai raccattato ai tavoli quelle comuni di merda no ma ho visto un tipo che aveva sbustato i cinque pack una ultra e una secret da tre euro ah che merda cestino ma come beh aspetta aspetta io me vado a prendere abbastarti ma dammela a me scusa perché le buttate nel cestino ah perché le vuoi eh sì me l'ha presa e me l'ha ridata vabbè poi abbiamo anche tutto il mazzo goblin carino poi sì sì adesso troveremo tutto il resto qua a mezzo ragazzi poi dei veiler oh ma questa è american carina la dopo american sì carina sì ci sta ha sparato alla spalla anche lei non credo penso che lei è stata abusata polimerizzazione raditi interessante ebbè mamma mia altro bulk che hai trovato sul tavolo no 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 questa è la roba della raditi me la sono fatta scambiare questo hai trovato sul tavolo se no la roba tempi i padri i padri e sundra sì 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 no le persone non li volevano vedere questo però è bello eh no è quarter sì ce l'ho anch'io questo è veramente carino in inglese trago corallo e carica no no ma la roba del quarter della raditi qualcosa ho raccattato su ed è proprio bellina allora abbiamo match up invocato giallo della mutazione un altro motociclista zero bros a caso ah cioè ho preso tutto un labirinto e un gremmaggio da dr2 eh stava lì il tipo ha detto ma fiatelo questo in francese che poi sta ancora un botto questa è tutta palta abbiamo spellbound ce ne dovrebbe essere un'altra qualche parte guarda tutte le super che la gente la lanciate poi abbiamo magnifica carine con le con le sleeve un po' un po' illegali un po' illegali ma ok non mi veniva la parola non volevo essere offensivo poi abbiamo entità maggiore o guarda un po' altre rare altre rare belle quelle si caricano tutte a un euro e cinquanta l'una e convulsioni belle due euro l'una ci dovrebbe essere una carta che sta a quattro euro il drago che è saltato lì è sì no no quello lo so devo trovare il tempo bella lo smoke granade ci vediamo cosa c'è sotto vabbè sono quattro altro che granade sì poi ho questo in tedesco è bello stasera in tedesco è di di sciabe unicorn qualcosa sì vedo che sei studiato è strano che conosci così bene il tedesco ti potrebbe tornare utile per altre cose secondo me non credo non credo quello però ci siamo capiti poi poi bello quello cosa no non quello quello dietro questo cesare quale l'ixis 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 quello che stai andando avanti è cascita quanto sta un euro sei euro ok questo quello sta un euro sì probabilmente venti però no è distrutto fatto un favore a chi l'ho preso wind ha anche una base shadow c'erano queste qui si ho preso pure queste belle quelle magnifiche che avrà pagato tipo 16 euro l'uno da me no non sono le tue magnifiche non sono quelle da difo però sono le mie guarda che bello quello americano anche quello con un bel remington in mano o questo che aveva del valore prima che ovviamente uscisse la rarity allora poi ho questa l'ho presa solo perché era quarter non perché effettivamente avesse un senso prenderla sapete quanto sta non perché c'è la maga nera che sembra che stia godendo cioè allora quarter ti dirò non è neanche male l'artwork cioè lo lo valorizza carica o un euro nibiru in play set cos'è a caso questo l'ho preso perché boh un euro bello hai un euro solo sta due boh sta tipo così poco mamma mia se lo vuoi sono cinque no ne ho sbustati due di quell'affare ok e c'è tra le carte che ti ho mandato dei pokemon va bene o rescue rabbit ultra per dirti che hai buttato dei soldi ah ok interessante ho buttato dei soldi si chiama investimento è tenete a comprare tutte le origini perdute in edicola ancora no ancora devo prendere almeno 50 blisterini come minimo e togliere tutto quello che rimane ai bambini perché effettivamente non possono comprare un prodotto normale mi dai no buono questo bulk sì 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 bulk che mi costava 35 euro no ma ci sono anche di più allora solemn warning giudizi sta roba gold boh rimane sempre alta sovranista golem specifichiamo che si intende 35 euro per le carte rare vecchie che vedete sì sì no 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 ragazzi stavo speso per tutto 35 euro ero cioè ho fatto jackpot parlo delle rare allora poi vabbè barriera veiler altri droll la gente i roll l'ha lanciata e tu basta no io li voglio secret tipo questo fa parte dei 35 euro questa fa parte dei 35 euro che dovrebbe stare tipo sei cazzo no no hai fatto un bel affarino lì eh sì però sì quando quando li recupero quei soldi mai guarda ti è tre parallele exeed no si recuperano facilmente fidati di me anche questi bello con fire questi dovrebbero andare sul market tipo in 4.2 secondi poi vabbè abbiamo questo bellissimo firewall ah questo è il ma queste due sono quelle che il tipo ha buttato nel cestino no dai cioè ok la scuola sinistra va bene l'altro no questo me l'ha regalato l'ia l'ha comprato e me l'ha regalato che gentilezza assurdo è la ragazza a cui ho mandato un pacco ragazzi sul suo canale arriverà l'opening di un pacco che gli ho mandato e poi questo tipo ho pagato 10 euro bello per 10 euro sta a 20 ma penso che l'ultimo venduto sarà del 2004 vabbè poi ho drago metallico da ldd poi altre rare a caso vabbè dai cazzo è 30 euro adesso aspetta 35 euro ci stai facendo comunque 16 milioni di euro su sì sì no allora a parte che non è tutto nm come vedi perché ha delle sbeccature punti bianchi in più sta roba quando si vende io ti ricordo che il bulk che prendete sono 4 euro e ci sono 60 trap dash shot dentro è differente la situazione e anche su quello hai ragione non posso mentire su questo io non trazzo nessuno il bulk è bello sì ti posti necomane e poi mi sa che lo pagate più di 35 inizio dici dubbi perché qualcosa ho pagato 35 sì secondo me secondo me lo pagate più sì no perché qui ci sono almeno 70 euro di carta no allora lo pagate più non è questo allora che cazzo ho pagato 35 euro boh vabbè oh ecco questo deve partire subito è bellissimo eh lo metti a 23 euro e l'hai venduto non credo di volerlo vendere a 23 euro ho pagato 40 lo metti a 41 euro e ci hai fatto il plus vabbè abbiamo tutto virtual world mappa le salle saffire e roba poi andiamo a la penultima pila prima della pila più grossa abbiamo scisma roba a caso vabbè abbiamo quello che mancava degli altri reparti a tutto il reparto terion ho detto vabbè non ce l'ho tiriamolo su allora mettiamolo qua poi vabbè tutto il reparto terion quello che mancava di gold pride con le volpine quello che mancava del mazzo di motociclisti un altro favoloso perché sì tanto sta a 2 euro poi il realenatore giga distruttore secret a caso scarafaggio questo perché era carino che sta a 2 euro a appunto ci sta carlo su carino poi abbiamo altra roba orgoglio d'oro sì tutto il resto che mancava numero 90 in tedesco perché non ce l'avevo fammi leggere il nome fammi leggere il nome devo fare il dotto numero 90 galaxi galaxi augen fotong meiner perfetto poi continuo a dire che non è tedesco vabbè no l'ho detto malissimo nel fotong meiner poi numero 38 lui a caso tanto per avere il secondo e cartone 3 euro 3 euro cazzo in inglese 5 euro no non credo pensate almeno noi siamo italiani noi teniamo i prezzi più alti scusa fucate il cazzo italiani stavolta yubel sta a 3 4 5 6 dollari da almeno tre mesi in america no è che non mi ricordo neanche quello che ho preso quindi sono contento quando decisione dolorosa godo sono contento questo è un plato ma è che io l'ho valutata le carte l'ho prese e poi non so se da qualcuno gli stand però effettivamente non non mi ricordavo da vela sta roba allora vabbè abbiamo una win poi vabbè cyber draghi trio con genio vabbè poi abbiamo suscitato c'è signore cristia lui che sta a un euro green magu altra roba gold pride oh quello che ho sbustato va lo possiamo mettere qua a mezzo insieme agli altri e poi distruggerlo mamma mia che merda un imperma quarter poi vabbè tatsunoku vabbè richiamati della tomba un paio di criceti cos'è ah il dispiegamento fusione spadaccino dei rigo super che sono un palesimento uguale a quelli da l'od poi vabbè la nave sprite sprint apollusa delle preparazioni e boh carta caso roba virtual ragazzi ho preso veramente tanti mazzi in questo giro allora vediamo veramente tanti cazzi sì un botto con una paesi dei cazzi ho preso allora abbiamo collasso magico ritorno ecco tutta la roba labirint insieme a qualche altra retta dolore incubo onesto poi oh vedo tutto quello che manca di labirint allora non sono uscito a tirare su un punishment non è possibile abbiamo cose a caso di lede ah tutto il reparto invoked natura bestia rare a caso insucchiabilità e tutto il resto di labirint c'era c'era lei collector ho detto ma io apprezzo lei collector perché la foliatura collector non sta sopra l'immagine del mostro mentre ci sono altre collector dove è spianato tutto tipo le vecchie ultimate c'è qualcosa fatto bene qualcosa fatto male allora andiamo avanti abbiamo vabbè cose a caso della rarity ho dei base and shock laser ultra belli due un fred bello ma hai comprato delle carte finalmente sì 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 bravo cazzo poi abbiamo un uria carino c'è sapphire esplosione chatoniana cyber fulminatore machine king in quattro copie anche quei vxyz delle fusioni ma che hai rapinato qua non ho rapinato nessuno anzi ho pagato pure troppo però erano belline allora un altro baser arcevo in drago grosso assalto seven tool distruttore bubble poi apprendista strega queste robe qua sarà dato sì questo è quello che rimane della della roba snake eyes che hanno dato via questa è in tedesco doppio di questo degli occhi oh bello sì sì quello che eugenio non mi ha preso praticamente poi andiamo avanti oh è comprata di roba sì sì ma sono stato lì cazzeggiavo chiacchierà qualcosa l'avemmo scambiato qualcosa l'ho comprato guarda un po' la robetta carina comprate ovviamente in hotel fuori al mac donald non non dove nel luogo del torneo ovviamente no lì dentro lì sono scambiato no lì dentro sono scambiato ho preso qualcosa di standa no giusto giusto per essere specifici se mai che eh ma alcune di quelle sono salite un botta quali? una labirinto secret particolare ho visto che in america era salita vabbè ma tanto è tutta roba che verrà ristampata poi abbiamo vabbè re di tutti corvi assault sincro cose a caso sai quando la gente dice ecco ecco la palta tieni dietela non la voglio più vedere tre araldi arancioni sulking questa cosa c'è vedo qualcosa insieme al sulking ok carte a caso allora abbiamo doppio regolus fusione bambola ombra erano tre cosa? ah i regolus? eh vabbè sì c'è ce ne doveva essere un terzo comunque poi vabbè questo il terzo era quello primo sordisci tra eh il dottore del tappeto eh è colpa sua se i tuoi sono scesi questa roba sai quanto sta? no 5,50 eh? 5,50 euro è una ultimate d'OTS sì OP24 5,50 euro vabbè tifone ultrararo c'ha una piega però vabbè per 5 euro mi piaceva signore lui distruzione a catena guardiano guardiano book of life combattente le lame dalla prima reprint mi sembra peschio vocato cappelli fusion un altro berser ninja armato poi vediamo cos'altro c'è getro swap polimerizzazione a caso boh un po' di roba rarity questo mi piaceva controllamente che era porter vabbè questo a caso eh però questo è veramente carino poi abbiamo altri Nibiru un altro drago tridente questo in italiano questo l'ho preso perché sì poi vabbè questo American oh yeah questo è crollato sono contento eh Donner Strike Colossus no ma tu ti dice scherzi io l'ho venduti quando l'hanno sbandito a tipo 20 euro e adesso sta boh 6 euro godo poi vabbè questo questa venticinquesimo che sta a 2 euro mi dispiace non capisco perché è una carta incredibile cioè quasi che vale di più questa e non ha senso poi andiamo avanti abbiamo altri draw sì questo aluber poi small ward altra roba rarity a caso altra roba rarity uh questo questo secret che mi piaceva pure questo questo è suscitato questa secret a caso poi vediamo dai altre carte inutili oh questo facciamo una piega eh facciamo una piega poi abbiamo 3 metamorfosi poi invincil caridad gracil nm ma in spagnolo vabbè poi squalo a molla bryza in tedesco in prima che dicevi vabbè questo è bello nm questo non è male poi regime box 2 un trono così ho l'ultimo per il playset poi numero 15 coniglio cose a caso vabbè ragazzi questo voglio sta roba perché la tiro su i miei acquisti sono un mix di roba carina interessante roba molto discutibile vabbè piccolo mondo quarter abitante l'abisso quarter questo mi sa che me lo tengo veramente figo colpo solenne quarter lancia proibita quarter questo collector sto a caso e mascherina bene andiamo avanti non è finito tranquillo abbiamo compulsori ma è che ho tirato su proprio la roba brutta 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 che dici vabbè ti faccio un favore che te levo la roba poi vabbè l'incurivo ultra un drago selvaggio la giara carina da rarity ovviamente stessa cosa questo giudizio solenne poi un'illusione platinum questa collector questa caso poi nibiru impossibile trovare le carte al dritto queste ragazzi che stanno tipo a boh 10 euro nm ma hanno vinto visto momenti migliori probabilmente la gente all'epoca l'ha distrutte e poi dici cazzo sta 10 euro poi allora poi abbiamo nibiru rinforzi bella tg tsukuyomi una bestia della spada folle carta caso inutili una goddess questa boh questa da gianto sta 2 euro poi non è vero è salito ma l'abbiamo visto l'altra volta che stava tipo a 2 mi sa che non si potrebbe vedere bene le carte vabbè i primi prezzi abbiamo visto si 2 e 3 dalla germania no no dall'italia spostibile poi andiamo avanti abbiamo l'alto paladino questo super questa collector anime dei maghi questa ultimate che schifo questa collector un'altra di sti cosi vabbè alieno madre pur poi vabbè bucato a caso un caius comune dei gattini e dei coniglietti tanto per zona del caos roba invocazione poi drago selvaggio una pollusa questa è da rarity dei corvi carini quelli da stone molti più bellini di sto schifo da OP poi altre rara a casa un altro spirito di yubel altra roba boh snake eyes e concludiamo con quest'ultimo mazzetto che abbiamo vabbè tutte comuni super mezzi interessanti dei tifoni sole hemstrike barrile dimensionale questo unica roba mi resquisco trovato insieme a queste altre cosine cioè non sono uscito a fare un mazzo completo poi ah c'è qualcos'altro qua no assolutamente altri alla nera mago delle tempeste pur quest'altra anche carina ryza questa a caso e credo che qua sia tutta palta uno due sì questo boh da speed duel e niente finito cioè ragazzi penso di aver tirato su una quintalata di roba carina alla fine eh perché è roba carina però niente di così incredibile wow hai preso un caius ultimate o un gd ultimate tutta roba mezza onesta dai alla fine non mi posso lamentare ho tirato su della robetta carina niente di così incredibile niente gd ultimate niente caius ultimate però alla fine ci sono cartine carine roba per retroformat roba per lo standard ci sono delle rare simpatiche da collezione cioè io sono soddisfatto alla fine è tutta roba mezza onesta che appena avrò un attimo di tempo caricherò sul market poi per herens queste non sono belle perché lui se non non trova delle trap dash shot a caso in mezzo non è contento però ci sono io per per disdegnare comunque un dog run comune scusa non vedo morphing jar super da tp in quel ritiro you're worth nothing hai ragione hai ragione penso la cosa più costosa che ho ritirato è questa sto falò è la roba più costosa attualmente quel trono quel trono è stata una botta di culo non me lo aspettavo arrivassi a 40 euro però va bene e va bene ragazzi il video finisce qua spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento ovviamente cosa ne pensate di quello che sono riuscito a ritirare e a scambiare perché secondo me ci sono tante cartine carine detto questo ovviamente se vi serve qualcosa vi ricordo che c'è il mio car market qua sotto in descrizione e noi ragazzi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video ciao a tutti ciao a tutti